I grandi siti culturali di Capodimonte del Museo Archeologico Nazionale delle Catacombe di San Gennaro si avvicinano. La grande collezione farnese, le antichità di Pompei ed Ercolano e la discesa nelle antiche aree cimiteriali sotterranee saranno unite da sabato prossimo grazie a una nuova linea di autobus che collegherà questi tre luoghi simbolo della città di Napoli. Abbiamo poi messo insieme esigenze di soddisfare una domanda turistica particolare per i tre poli museali con quella che è invece una domanda tipica della zona di Capodimonte di spostamento che aveva bisogno sicuramente di un servizio più intenso di quello che garantiamo finora. La linea Bus 3M, filo conduttore dell'arte e della cultura, è una linea urbana regolare. È stata pensata dal Comune di Napoli e realizzata da ANM, un percorso che vuole fornire un servizio nel momento in cui il turismo a Napoli sta tornando a crescere. Sulla linea hanno lavorato intensamente in questi mesi il vice sindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, l'assessore alla cultura Eleonora De Maio e l'amministratore unico ANM Nicola Pascale. Gli autobus di recentissima acquisizione costituiranno anche un'utile integrazione al servizio di trasporto collettivo per collegare la zona Miano, Rione Lieti e Capodimonte con Piazza Dante e Piazza Cavour. È una linea ordinaria a servizio di tutti i cittadini, inserita normalmente nei servizi minimi e quindi nel contratto di servizio di ANM. Agile, snella, veloce, che va anche incontro a quelle che sono le esigenze delle normative recenti che sono state emanate dal governo per combattere la situazione epidemica in atto. È una linea che impiegherà circa mezz'ora a fare l'intero percorso, partirà da questo stazionamento qui a Porta Miano ogni quarto d'ora da lunedì alla domenica tra le 7 del mattino e le 8 di sera.